Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Parleremo del 194esimo episodio di Angry Dragon Che cosa accadrà in questo nuovissimo episodio? Beh non lo so nemmeno io O forse si, si potremmo portare di livello un po' di più Cthulhu vero? Beh vediamo, comunque vi auguro una buona visione Eccoci qui ragazzi nel 194esimo episodio di Angry Dragon Riscuotiamo le ricompense e vediamo cosa ci da Benissimo Apriamo L'uovo e vediamo cosa ci da Livello 11 l'avevamo portato vero? Si si Me lo ricordo E qua dovrebbe darmi anche un'altra ricompensa Nooo Lega del gigante Mi hanno retrocesso Beh c'è anche questo qua Quello dell'evento Visto si è tornato a risistemare È tornato alla normalità per fortuna Di 90 soldati E poi l'abbiamo quasi completata Che dite lo facciamo con le lettere? No no Forse in una prossima partita Ora Aspettate un attimo Ora aspettate Ops ho sbagliato Comunque Il baule è qui sotto Ora lo andiamo a Prendere No quella era la lettera I bauli si trovano qua La riprendiamo Dai dov'è? Ma che L'altro L'altro bauli Sono da quella parte Ma ormai andiamo da questo E da questa parte Eh E poi da quest'altro Ho pronto Ho pronto E mois E poi Andiamo icular Su E E Questo Il borde E Ad Apple sofort O Si Dop Primich Considera Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Vediamo. Allora. Qua. Le lette sono da questa parte. Gli scrigni sono invece da quest'altra. Ma ancora non si è aumentato, manco di livello 12. Strano. E da questa parte. Dai. Deve essere qua. Deve essere qua. Eccolo, infatti, abbiamo trovato. La missione diceva 3.300 metri. Si è sistemato a quanto pare, ragazzi. Ok, divoriamo 90 soldati. Questa è la missione anche importante. E... 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 Che punto siamo? All'ultimo. Fatto, divorati. Ora andiamo in altri posti. E vediamo che succede. D'accio. Anche. Allora. Ti ringrazio. Ti ringrazio. E... Ti ringrazio. Ti ringrazio. E... Grazie a tutti. Dai, deve darmi una risposta. E quando ci inviega a uscire dal tunnel segreto? Ah, le prossime lettere sono da quella parte. Qua non penso che abbiamo fatto, infatti abbiamo fatto soltanto 300, ma 1000 non ci arriveremo. Maledetto logo. La pacissibilità non sta funzionando. E che mi interessa? È stato quasi il mio ostacolo. Dai, no. Di nuovo, basta. L'app accessibilità. Il telefono è arrivato, ragazzi. Io non ci credevo a quello che diceva la prof, ma col tempo i cellulari poi non funzionano più, vanno lenti. Infatti è vero. Già 4 anni, non ce la fa più. E da questa parte. Grazie. Sì La U si trova qua raga E da questa parte Ora basta L'app accessibilità Continua a interrompersi Non me Frega un niente Annazione Niente ragazzi E' andato a finire così Purtroppo Oggi non so il motivo Ma il telefono Sta avendo un po' di problemi Mi appare la schermata L'app accessibilità Non sta funzionando Che mi interessa Basta che non mi sponda Già iniziamo bene Eh raga Beh almeno Abbiamo preso Tutti gli screen Ora rigiochiamo O vi credete Che abbia finito Affatto Speriamo che vada Ora nel verso giusto E' un bolendo Si vede Visto il gioco E' un bolendo E questa cosa Non mi piace affatto Fortuna che Ne devo fare Soltanto altre due Ne dovrei fare Soltanto altre due Episodi Soltanto altre due Ne dovrei fare Visto di nuovo L'app accessibilità Dà un po' di problemi E a me i problemi Non mi piacciono affatto Soltanto altre due Aspettate ragazzi Proviamoci di nuovo Oh forse un po' Si è sbloccato Ma il livello 13 La vedo d'ora Che ci arriviamo Ma il livello 13 Si è sbloccato Ma il livello 13 Somma Non mi piace affatto Ma il livello 13 Ma il livello 13 Grazie. Andiamoci in un altro mondo. Grazie. Dai. Dovrei levare la notifica dell'accessibilità se si può fare. Perché è un tormento così, eh? A meno che il gioco funzioni così è già qualcosa, ma che mi spunti la notifica, l'accessibilità è probabilmente una cosa molto fastidiosa, eh? Ancora manco di livello 12. Ci siamo saliti, ma... Ho parlato troppo presto. Sì, siamo saliti, ma... di un livello so che ci facciamo. Niente. dobbiamo fare molto di più, eh? Ce l'abbiamo fatta! Siamo andati negli abissi, proprio! 2.000 metri già sicuri, li abbiamo già fatti! 2.000 metri già sicuri, li abbiamo già fatti! 3.000 metri già sicuri! 3.000 metri già sicuri! 3.000 metri già sicuri! 4.000 metri già sicuri, li abbiamo già scoresi con tutti i miei jughi dell'acc 그때! Che mi rovina il video. Dannazione. Grazie a tutti. 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 E spero che il video oppure vi piaccia oppure no. Iscrivetevi al canale e come titolo si chiamerà questo. Ascoltate bene. Il prossimo episodio. Alla prossima.